Il corpo votante dell'ex comune ora municipio di Monteciccardo è composto da circa 1300 persone quindi servirà una presenza di almeno 750 votanti per far sì che queste elezioni siano valide e quindi possiamo sedersi al sezzo del municipio. Altrimenti il comune dovrà essere commissariato dal sindaco di Pesaro. Finalmente dopo tanti anni c'è un'unità di intenti e si è creato un gruppo trasversale tra varie personalità che hanno amministrato nel tempo Monteciccardo e anche di personalità lavorative e siamo riusciti a creare un gruppo unico appianando a volte anche tensioni che ci sono state nel passato per far capire una cosa che ormai dobbiamo far sentire un'unica voce forte al comune di Pesaro con le nostre richieste e le nostre esigenze. Come consiglio noi avremo potere di delibera propositiva rispetto al comune di Pesaro quindi noi porteremo le nostre istanze del municipio di Monteciccardo al comune di Pesaro. Poi come presidente io o un mio delegato potrà partecipare a tutte le questioni che riguardano il municipio di Monteciccardo sia in consiglio comunale sia in giunta comunale che nelle commissioni comunali senza diritto di voto ma con diritto di parola. Comunque in alcuni temi che sono riportati nello statuto avremo anche un parere quasi vincolante cioè il comune di Pesaro dovrà ascoltare le nostre richieste a meno salvo qualche eccezione in cui il consiglio comunale può votare contro ma a grande maggioranza. Ci teniamo a condividere le scelte che faremo in questo percorso legislativo per riportare Monteciccardo a vivere le scelte condivise quindi per quello che possiamo amplieremo le nostre scelte alla popolazione il più possibile quindi vi chiediamo di sostenersi andando a votare prima e poi partecipando alla vita del municipio scusate il refuso poi. Grazie. 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 Grazie.